Musica Ciao a tutti amici di Youtube, sono Informatica Tutorial A partire da Windows 10 e University Update Microsoft ha aggiunto la possibilità di installare estensioni manualmente su Microsoft Edge Oggi vi spiegherò come inserire il pulsante cerca con Google all'interno del menu contestuale del browser Così facendo si potrà cercare il testo selezionato con Google Prima di tutto andate a scaricare dal link in descrizione il file zip dell'estensione Successivamente recatevi nella barra degli indirizzi, scrivete About Flags Dunque andremo a impostare dei criteri nella sezione sperimentazione del browser Mettete la spunta su Abilità funzionalità per gli sviluppatori di estensione E poi riavviate Edge Estraete il contenuto del file scaricato dove ritenete opportuno Premetto che non dovrete né eliminare né spostare questa cartella dell'estensione Se no non sarà più presente nel browser Come passo successivo aprite il menu di Edge premendo sui tre puntini in alto Dopodiché recatevi in estensione Premete il pulsante carica estensione e scegliete la cartella Google Search Estratta precedentemente Selezionate del testo, premete il tasto destro e scegliete Search with Google Per cercare il testo nel motore di ricerca Ritenete utile questa funzione o preferite l'opzione Chiedi a Cortana? Iscriviti a cura di QTSS L'ovirma Iscriviti a cura di QTSS L'ovirma Iscriviti a cura di QTSS Grazie a tutti.